Le previsioni meteo danno freddo, pioggia e neve. Bene, accendiamo il cammino, dormiamo 12 ore e una volta svegli ci facciamo una bella colazione. Magari accendiamo la televisione, mettiamo su Rai 2 e ci godiamo quelle storie che ci fanno sognare. Ah, che bella cosa è il Natale. E allora sogniamo, immaginiamo. Tutti i regali del mondo sono a casa vostra, sotto il vostro albero o su Rai 2. Vuoi ascoltare The King? Hai l'aria di un fan di Elvis Presley. Per queste feste non restate a terra, regalatevi le favole più belle. Viaggiate sul magico treno del Polar Express, fino alla New York di Bianche e Berni. E poi a Parigi, per gustare in prima visione una imperdibile ratatouille. Erdetevi nella foresta selvaggia di Tarzan. Cavalcate le mucche alla riscossa. Lasciatevi incantare da Harry Potter. E con un poco di zucchero, addolcite la pillola di Mary Poppins. Nuotate con Lilo e Stitch e planate sulle magiche orecchie di Dumbo. A Natale, lasciate tutti i freni, mollate tutte le redini. Volate fino alla luna, mettete le ali sulla schiena e abbandonatevi alla festa più grande. Danzate tutte le danze del mondo. Ballate, sudate, scatenatevi al ritmo delle storie più belle. Con i protagonisti delle favole più amate. Con gli amici più animati. È Natale. È sognare. È Rai 2.